E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche oggi andiamo insieme a vedere l'analisi tecnica quello che sta succedendo sui mercati come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace sotto questi contenuti iscrivetevi al canale col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati oggi voglio fare un flash update voglio stare anche più corto del solito perché perché non voglio dilungarmi troppo voglio passarvi quelli che sono i concetti della giornata oggi abbiamo assistito a un sell off un sell off abbastanza marcato un sell off che comporta nella giornata odierna un meno 5.5% nel momento in cui sto registrando siamo andati a ritoccare a ritestare da media a 12 periodi sul giornaliero ve la farò molto corta ragazzi è normale che ci sia un sell off è normale che questi movimenti ci siano sono movimenti correttivi di un mercato che comunque è molto esteso ce li dovevamo aspettare sì ora non è successo nulla di tragico bisogna valutare le cose step by step quindi personalmente non ho alcun problema in questa fase abbiamo avuto un'indicazione di questo ribasso più che altro nella candela di ieri perché la candela di ieri è una candela che ha chiuso molto molto diciamo bearish perché appunto vedete proprio la shadow non c'è praticamente è assente nella parte bassa della candela questo vuol dire che siamo abbiamo chiuso senza dimostrare forte domanda ora personalmente potremmo a mio avviso andare nello scenario più bearish insomma andare innanzitutto a perdere la 12 e andare a ritestare questo cluster qua cluster che ho allungato ulteriormente perché è un cluster molto importante sta a contatto con quelli che sono la vecchia resistenza insomma che abbiamo visto essere testata una due tre volte qua ok quindi un supporto molto importante quello dei 52 53 mila dollari però prima di arrivare là abbiamo ancora un po di strada da fare quindi vediamo se solo la 12 ci fa da terreno appunto da muro importante per tenerci in uptrend lo scenario altrimenti se riusciamo a recuperare oggi nella candela odierna potrebbe essere lo scenario appunto di un equilibrio un po di consolidazione per poi vedere da che parte andare però effettivamente ricordatevi ragazzi sempre il solito discorso se avete dei dubbi fate zoom out e capite anche voi che siete in un trend bullish ok quindi un trend che potete anche tracciare con una trend line che parte appunto di lungo lungo periodo vedete che effettivamente ok il tutto è abbastanza bullish non ci sono particolari problemi però vedete che le cose tendono a convergere ok negli stessi punti ovvero a ridosso di questo cluster qua che potrebbe essere tranquillamente ritestato vedete in una fase appunto di check di questa trend line quindi un po diciamo che il supporto ora un po chiave la zona chiave potrebbero essere veramente 53 mila dollari sarebbe anche uno scarico solido ok perché da qua si potrebbe andare a consolidare e poi ripartire e mantenere l'uptrend quindi per il momento non ci sono particolari problemi di fronte a questo sarà molto molto importante e molto interessante vedere come chiude la candela oggi il prezzo di bitcoin appunto vedremo se abbiamo una shadow a ribasso molto molto marcata vorrà dire che avremo impulso rialzista e quindi domanda sul prezzo altrimenti andremo poi a valutare step by step quello che accadrà sicuramente vedete che in questa zona qua oltre a questo cluster potremmo avere la trend line potremmo avere anche la 26 periodi che diventa un ulteriore supporto la 50 daily è ancora molto lontana sui 47 mila dollari però vedete appunto l'unico zona in cui l'abbiamo ritestata è stata veramente in questi minimi sui 30 mila dollari dopodiché veramente non l'abbiamo più toccata ci siamo avvicinati in questo flash crash che abbiamo avuto in questi giorni che ci ricordiamo molto bene però appunto è ancora molto distante abbiamo ancora tempo per farla salire vedremo appunto dove arriverà però per il momento non non facciamoci la testa prima di rompercela ok per quanto riguarda total market cap vedete che c'è anche qua un crash tra virgolette la total market cap ma se comunque che si mantiene su 1.69 trillions quindi direi 67 trillions scusate quindi una market cap di tutto rispetto una nota molto importante che devo farvi notare che a seguito del dump di oggi di bitcoin notiamo sul daily che comunque abbiamo una correzione di dominance ok questo ha confermato ulteriormente che la situazione sia un po' cambiata rispetto al passato perché nel passato vedevamo appunto a seguito dei flash crash di bitcoin o comunque dei crash di mercato la dominance salire molto molto rapidamente perché i fondi si spostavano direttamente su bitcoin ma non stiamo vedendo questo atteggiamento anzi stiamo vedendo un po' atteggiamento contrario nel quale addirittura abbiamo una correzione dell'1% sulla dominance quindi segnale molto molto importante che ci fa capire che comunque le altcoin stanno ancora tenendo botta immediatamente stanno performando meglio di bitcoin ok immediatamente quindi quindi per il momento è un ulteriore diciamo punto a favore del fatto che non ci sono particolari campanelli sembrerebbero un po' un sell off programmato di bitcoin sell off che ha liquidato questa mattina una valanga di long quindi attenzione perché lo diciamo sempre il mercato è molto manipolato stiamo operando in un mercato molto non regolamentato quindi manipolato quindi va apposta particolare attenzione però non voglio non voglio aggiungere troppo perché queste sono giornate appunto di scarico sono giornate abbastanza diciamo di routine non c'è particolare tensione sui mercati in questo momento se non vabbè ok certo delle candele rosse però fondamentalmente vi ripeto se avete dei dubbi fate zoom out e capite dove vi trovate è molto importante vedete anche che ci sono dei nomi che vanno totalmente in controtendenza non ve li faccio vedere tutti questa sera voglio solo darvi qualche spunto però un nome di cui si è parlato tanto oggi è RIF RIF appunto avete visto questa candela veramente molto 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 brutta con volumi molto importanti bearish a seguito appunto di una notizia black swan che io non ho ancora capito se sia totalmente confermata o meno però che c'entra appunto FTT dei post dei tweet il discorso qua che voglio appuntarvi è sempre lo stesso il mercato è pieno di black swan ci sono dei black swan event vuol dire che ci sono notizie che non potete prevedere ok la struttura era totalmente bull però ovviamente vi capitano queste giornate in cui avete un'escursione del prezzo che va da essere bull a essere bear e fare un meno 34 di shadow nella giornata questo perché? perché comunque dovete considerare che ci sono delle notizie che voi non potete inserire all'interno di analisi tecnica sono notizie che influenzano il mercato notizie esterne e queste dovete tenerle in considerazione nella vostro calcolo di probabilità dell'analisi tecnica quindi anche per questo non potete mai essere sicuri al 100% di come operate dove operate e perché lo state facendo dovete tenere in considerazione anche questi fattori che sono estremamente estremamente importanti ragazzi non mi soffro mai di ripeterlo però sono quei concetti che non sono diciamo clickbait ma sono veramente importanti per gestire bene il rischio del vostro wallet perché fare soldi è sempre semplice ma vi assicuro che non è così semplice quando sale tutto bene sale con tutti ma poi bisogna gestire il rischio e le proprie posizioni questo è fondamentale ragazzi io non voglio andare troppo oltre veramente oggi secondo me appunto siamo in una fase di scarico abbiamo liquidato delle long position ah ecco forse un appunto volevo farlo per chi mi chiedeva che cos'è il CME e perché bitcoin appunto è influenzato dal CME beh allora vi dico subito il CME è semplicemente il Chicago Merchantile Exchange è dove ci operano praticamente gli istituzionali con contratti futures servono parecchi soldi per operare sul CME perché sono dei contratti futures il problema dei gap sul CME chi si chiede cos'è un gap sul CME semplicemente è perché questi mercati operano dal lunedì al venerdì con delle fasce orarie quindi il weekend non lavorano cosa succede che se chiudono il venerdì a un determinato prezzo e bitcoin nel weekend fa un pump esagerato riapre il mercato ovviamente al livello di prezzo che è quello di mercato e quindi si crea un gap cioè uno spazio che c'è tra il prezzo di chiusura e il prezzo di apertura del lunedì quindi prezzo di chiusura del venerdì prezzo di apertura del lunedì si forma questo gap molto spesso si dice appunto che questo gap deve essere fillato deve essere appunto coperto statisticamente è successo molte volte non sempre per chi c'era si ricorderà il gap dei 9600 dollari su bitcoin che non è mai stato fillato per il momento non è ancora stato fillato e quindi ok è un modo appunto di fare anche analisi su queste cose qua ovviamente trovano a mio avviso un po' il tempo che trovano però io mi piace di più concentrarmi su quello che siamo adesso su quello che è il sell off che c'è stato in queste in una giornata di ieri fondamentalmente è partito nella giornata di ieri e abbiamo proseguimento nella giornata di oggi sarà molto molto interessante vi ripeto vedere dove chiudiamo oggi per capire appunto livelli di supporto e resistenza e poi aggiornarci domani e poter avere una visione più chiara anche della situazione io ragazzi mi fermo qua non voglio vi ripeto oggi andare troppo lungo se volete appunto lasciate un bel like mi aiutate tanto con l'algoritmo di youtube se avete appunto voglia iscrivetevi anche al canale col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su quelli che sono appunto i miei aggiornamenti che tendo a fare il più possibile insomma qua sul canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao